Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale Oggi un piccolo video haul Perché ho preso delle cose sul sito della Zaffool Che io amo veramente, ha delle cose bellissime Manca un prodotto che ancora dovrà arrivare Ma semmai ve lo mostrerò poi più avanti Ma vi ricordo come al solito che sotto nell'info box lascerò il link diretto allo shop di Zaffool E ogni link di tutti i prodotti che andrò a mostrarvi Andate a vedere perché veramente io amo, amo follemente Zaffool Ha veramente dei prodotti buonissimi, bellissimi Io impazzisco ogni volta che vado sul sito Allora quindi in pratica Da allora avevo preso due costumi interi Per ora mi è arrivato solo uno, dovrebbe arrivare anche l'altro A breve, si spera più presto Però intanto ve le volevo mostrare così almeno le posso mettere e usarle Quindi questo è uno dei costumi interi che mi è arrivato Bellissimo, davvero troppo troppo bello Ve lo faccio subito vedere E vi ricordo come al solito sotto troverete il link Eccolo qua Allora Bellissimo In pratica viene, questa è la parte sopra che come vedete ha lo scollo a cuoricino E anche questa parte qui fatta tipo fiore Che viene sul seno tipo fiore È bellissima, è super super imbottito Però l'imbottitura si può anche rimuovere qui dal lato Poi viene leggermente scoperto sotto il petto E è anche molto scollato nel cavallo Perché vedete viene bello sgambato come andavano una volta E è bellissimo Poi ha i laccettini dietro al collo E il gancio così Sempre che viene dietro la schiena Quindi viene leggermente aperto dietro la schiena Con i laccettini sul collo Ecco così forse si rende l'idea Rende l'idea È bellissimo Cioè fa un seno pazzesco Veramente molto molto bello E poi io l'adoro Soprattutto magari verso fine agosto, settembre Che comunque non c'è più quel caldo troppo avoso Ringraziando il Dio I costumi interi mi piacciono molto Anche perché l'acqua del mare è un po' più fresca Quindi aiutano Quindi li trovo davvero bellissimi Ciao Cioè quindi è troppo bello veramente Sul seno come viene l'effetto Cioè è bellissimo veramente Che ho preso una M L'ho provato E mi sarà benissimo Perché ringraziando Dio ho perso parecchi chili Anzi semmai poi vi farò anche un video dove vi parlo Della mia dieta Di come ho perso 15 chili Di quello che ho fatto Di quello che sto continuando a fare Perché non è che ho finito Quindi se vi va poi magari quello farò un video a parte Comunque questo è il primo costumino Troppo bello Poi voglio farvi vedere il tessuto Come è fatto E' davvero morbidissimo Il cotone è di altissima qualità E' foderato perché la parte interna E' morbidissima il contatto con la pelle Quindi non dà fastidio E' davvero morbida E bello aiuta anche a sembrare più magre Quindi ve lo straconsiglio E' davvero bellissimo E' super sexy Lo adoro Belle queste luci mamma Grazie amore Poi Altro prodottino che ho preso E' della Amore mio E' una colladina Che stanno sono andate tantissimo E quindi la volevo prendere Perché è davvero bellissima Anche questa Ancora non l'ho aperta Volevo mostrarvela Quanto è bella Bellissima veramente In pratica viene lunga E ha Il primo ciondolino Che è un triangolino Questo con Tutti questi Svaroschini Queste pietrine colorate E poi l'ultimo Che invece è Fatto in questo modo Cioè è bellissima Adesso cerco di aprirlo qua Così ve la faccio Vedere indossata Questa Toggo la mia Collana che avevo così Troppo belle Cioè io amo Questi oggetti di collana Poi con l'abbronzatura Una bella scollatura Sono assolutamente Stupende Veramente Vedete come viene Quindi La parte col triangolino Accompagna proprio il collo Questa è una via di mezzo E poi questa che scende Un po' più lunga Ma è carinissima Cioè è troppo bella Infatti la volevo tantissimo La vedevo anche su Instagram Quando ho indossata Delle ragazze Me ne sono sempre innamorata E è davvero bellissima Cioè Che glielo vuoi dire? Ha un sacco di luce Bella bella Sì Mi piace da morire Quindi Anche di questa Vi metto il link sotto Nell'info box Vi mostro questo Che Come l'ho vista Sul sito Non ho resistito Dovevo assolutamente Prenderla Quindi arriva Con La faccettina Di protezione E Guardate che cos'è Cioè è meravigliosa Io amo l'Instagram E questa Mi ricorda un po' L'icona di Instagram Che è troppo bella Con la scritta Aquafashion Con la faccettina Con le ciglia E il rossettino Che ricorda un po' Una fotocamera Poi ha qui Questa taschina Che è proprio Come l'obiettivo Delle foto Cioè è troppo carina Piccolina E poi Vabbè Qui ci sono I flash E le varie cose Della fotocamera Dietro ha Anche una Tastina Fatta in questo modo E poi La parte interna Che C'è la carta Adesso la togliamo Carina È foderata In questo modo Ha un tascone Qui Per mettere Magari le chiavi di casa E tenerle Portate animale Di mano E poi ha Un'altra taschina Con la zip Con la cernierina Qua Cioè io la trovo Un amore Cioè è troppo bella E è bellissima Anche come è fatta La tracolla Della collana Perché ha Questa parte qua Che è fatta Bianco e nero E si regola A seconda Della lunghezza In cui vogliamo portare La nostra borsa E poi qui Ha le catene dorate Cioè io la trovo Cioè è troppo bella Bellissima Anche mio marito Anche mio marito Quando la vista Dice Troppo chic Troppo chic E troppo fashion La amo Quindi non potevo Assolutamente Farmela scappare Troppo bella Veramente E anche i prezzi Non sono altissimi E poi davvero Sono di altissima qualità I loro prodotti Davvero molto buoni È un'ecopelle Fatta Cioè morbidissima Ha un profumo Buonissimo Quindi assolutamente Io amo Pergiutamente Zaful E quindi niente Volevo mostrarvi Questi prodottini Come al solito Vi ricordo Che sotto Nell'info box Troverete i link Diretti A tutti questi prodotti Che vi ho fatto vedere Che sono un amore Trappo belli Andate a vedere il sito Perché veramente Ne ha Qualsiasi cosa Bellissimi Dei prodotti bellissimi Dei prezzi Davvero molto accettabili Bella anche la mia collanina E quindi Niente Come al solito Spero che il video Vi sia piaciuto Che vi sia stato D'aiuto Per acquistare Qualcosina Da loro Magari avete scoperto Anche che sono Ottimi I loro prodotti E sicuramente Prenderò Delle altre cose Perché lo amo Zaful E love Zaful E niente Come al solito Vi mando un bacione grande E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti